Mi chiamo Graziella e fino ad alcuni mesi fa soffrivo di una forte intolleranza al glutine. Non riuscivo a mangiarlo. Se per caso mangiavo un po' di cibo con glutine, avevo delle serie sintomatologie anche con perdita di sangue. Dopo il seminario fatto con Gabriele sulla mamma, ho fatto un importante movimento e ho riavvicinato la mia mamma, guarendo una relazione sospesa e da quel momento ho potuto consumare piano piano piccole quantità di glutine ed ora lo mangio senza più avere problemi fisici. Anche la mia relazione sentimentale è migliorata.